Il prossimo 23 aprile, in occasione della Giornata Mondiale del Libro, l'Associazione Culturale Mutamenti organizza il contest Sio Fossi Libro. L'iniziativa, vista l'emergenza coronavirus, si svolgerà sui social. Partecipare è facilissimo, basta postare un'immagine personale e originale che reinterpreta il titolo di un libro famoso, affiancare alla foto l'immagine della copertina del libro scelto e inserire chiocciola mutamenti e l'hashtag Sio Fossi Libro. Insomma, spazio alla fantasia e alla creatività. In un momento in cui siamo costretti a non muoverci da casa, niente ci impedisce però di viaggiare con la fantasia con i libri. La lettura ha, infatti, questo superpotere. Leggere ti apre la mente e ti mostra alternative, ti fa riflettere. Ti libera da stereotipi, pregiudizi e imposizioni sociali che hai sempre accettato senza mai porti domande. Ci sono letture di viaggio e altre che hanno il potere di trasportarci in altri luoghi, reali o immaginari. L'Associazione Culturale Mutamenti è impegnata da anni a promuovere in città iniziative per diffondere l'amore per la lettura.